quest'anno nell'ambito della scuola di etologia per laici l'ufficio diocesano di pastorale per le vocazioni propone un corso di antropologia vocazionale non è possibile pensare l'umanità se non all'interno di una chiamata e di una relazione con dio per cui lo scopo di questo corso è quello di proporre un cammino attraverso il quale l'uomo può pensarsi in relazione con dio chiamato alla vita chiamato alla fede chiamato alle specifiche vocazioni questo cammino è rivolto a tutti particolare certo a coloro che nelle parrocchie diocesi cura in modo particolare l'aspetto vocazionale della vita anche perché la pastorale vocazionale come amiamo spesso dire è la vocazione di ogni pastorale non possiamo pensare a una pastorale ordinaria senza un legame con la dimensione vocazionale della vita dell'uomo dell'esistenza delle scelte anche concrete di ogni giorno